Bentornati! Beh, dopo aver raccontato male trame di Verdi e di Donizetti, potevamo non raccontare male anche qualcosa di Puccini. Beh, mi sembrerebbe scortese non farlo. Oggi quindi raccontiamo male, ma non Lescaux. Ma non Lescaux fondamentalmente è la storia del continuo tira e molla etico dei tre protagonisti, ovvero sia Manon Lescaux, una teenager un po' frivola che cambia idea ogni dieci minuti, suo fratello Lescaux, perché dare un nome proprio anche lui pareva brutto, che è una figura strana, perché all'inizio sembra veramente un perdigiorno che vuol vendere la sorella e sfruttarla peggio di Viserys Targaryen. Poi la protegge, poi l'incasina, poi cerca di farle evadere e per fortuna nel quarto atto di lui non c'è più traccia. Terzo protagonista Renato de Grieux, che invece un nome proprio ce l'ha, ma nessuno lo usa mai, quindi parleremo di lui semplicemente come de Grieux. De Grieux è uno studente, in questa edizione dell'opera un po' fuori corso, lo ammetto, che non ha ancora capito che Manon non è la donna che fa per lui, perché come diceva il Sassaroli e i Melandri, una donna così tu non la reggi. Trama! In una locanda troviamo De Grieux, che è uno studente squattrinato, anche perché apparentemente non esistono di altro tipo in natura, che parla con degli amici dell'amore. E come tutti gli uomini senza una donna, fa una vera e propria apologia della solitudine. È una mia scelta, non voglio avere legami, così posso lasciare la tavoletta abbassata. Ovviamente, 30 secondi dopo, De Grieux è perdutamente innamorato di Manon, l'ennesima perfetta sconosciuta che popola tanti libretti d'opera e di cui ci si innamora immediatamente. Manon Lescaux, accompagnato dal fratello Lescaux, è destinato a un convento per decisione del padre. Il fratello, invece, è di tutt'altro avviso. Ha incontrato Geront, un facoltoso signore, conosciuto pochi minuti prima, e pensa che se invece che al convento affiderò Manon a Geront, che ha conosciuto pochi minuti prima, ne verrà qualcosa in tasca anche lui. Il facoltoso signore, ve l'ho già detto che l'ha conosciuto da pochi minuti? Organizza il ratto della ragazza. Scoperto il piano, De Grieux impiega parecchi secondi per convincere Manon che Geront la vuole rapire. E Manon, che crede immediatamente a un perfetto sconosciuto, scappa con lui. Ok, di primo impatto Manon non ci fa una grande impressione e aspettate di vedere il secondo atto. Ma dobbiamo dire che anche il fratello di lei non ha una grande considerazione. Infatti, Geront è imbufalito per la sottrazione della ragazza. Malesco, che è un uomo pragmatico, gli dice di non preoccuparsi. Manon è scappato con un studente, ma, virgolettato, borsa di studente rimane presto al verde. Chiuse virgolette. E gli dice anche che, sempre virgolettato, Manon non vuol miseria, ma nonna riconoscente accetterà, un palazzo per piantare lo studente. Non male per una che stava per entrare in convento. Con la profonda stima del fratello sulla di lei addirittura morale e sulla genuinità dei suoi sentimenti si chiude il primo atto. Nel secondo atto scopriamo che Lescaux conosceva i suoi polli. Manon, infatti, ha lasciato lo studente squattrinato e ha sposato Geront, nel cui palazzo vive vita agiata. È palese, però, che i lussi non sopperiscono alla passione che c'era con lo spiantato studentello e che apparentemente sembra mancare completamente col marito. Lescaux, nel frattempo, è diventato amico di De Grieux, che non sa dove si ama Non, e Lescaux gli dice che per riavere sua sorella basta avere i soldi per mantenerla. Ah, i bei valori di una volta. Non essendo stati ancora inventati bitcoin e start-up, Lescaux invita De Grieux a darsi al caro vecchio gioco d'azzardo. Un'idea geniale. Non solo. Vedendo la sorella annoiata, lo invita a palazzo, cioè, detto in altri termini, il matrimonio barcolla e lui cosa fa? Invita l'amante a casa. C'è bisogno che vi dica che non si rivelerà una grande idea? De Grieux non se lo fa ripetere due volte, naturalmente, non sapeva dove era Manon, la sta cercando da un sacco di tempo, quindi si fionda a palazzo. Incontra Manon, la quale rimane sorpresa del perché De Grieux sia così arrabbiato con lei. In fondo lo ha solo mollato da un momento all'altro per i soldi di un uomo che ha il tempo dei suoi anni. Che sarà mai? Ma la mai sopita passione fra Manon e De Grieux si riaccende. Geront li sorprende. Cielo, mio marito! E quando prova a protestare per i suoi sentimenti traditi di marito, Manon, che davvero non si capisce se sia ingenua o completamente idiota, gli dice, ma guardi un po' lo specchio, e ora guarda lui, dimmi che ho fatto male. Geront se ne va via offeso meditando vendetta, ma alla fine li lascia lì, tutto sommato, liberi di andarsene, ignaro che con l'istituto giuridico del delitto d'onore poteva impallinarli entrambi ed essere a casa per cena. De Grieux capisce che è meglio cambiare aria e alla svelta, ma Manon, che lo avete capito, è una ragazza di sani principi, si dispiace di dover abbandonare tutti quei lussi. Mentre lei frigna come una dodicenne che vuole il nuovo iPhone e De Grieux comincia a pensare di aver fatto quella che in Liguria chiamano una belinata, arriva l'esco, che annuncia ai due piscuani che Geront, invece che lasciargli la casa e le chiavi della macchina, li ha denunciati per adulterio. Pensa che... Le guardie arrivano in un lampo, altro che squadra mobile, e arrestano Manon, mentre De Grieux riesce a fuggire. Manon viene condannata all'esilio in America, che, è bene ricordarlo, ai tempi era una colonia penale. Dopo un patetico tentativo di farle evadere prima che la nave salpi, De Grieux supplica il comandante che lo prenda a bordo con lui, anche come mozzo. Siamo ormai alla fine dell'opera, ma abbiamo un grosso, gigantesco problema. Abbiamo avuto tradimenti, finti dilemmi esistenziali, superficialità, morale diffusa e un po' di action, ma non è morto ancora nessuno. Il librettista, quindi, si rende conto che la storia non funziona e che qualcuno bisogna pure ammazzare. Meglio se è con lei che dal nome all'opera. Giunti quindi in America, il librettista tira fuori il colpo di genio dal cilindro. Fa finire Manon e De Grieux non si sa davvero come in una landa deserta, dove Manon è in fin di vita, ma ha abbastanza energie da cantare un'area impegnativa come solo perduta e abbandonata. Dopodiché muore di stenti. Alla faccia del sogno americano. Se volete iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo alla prossima trama raccontata male.